Un 6 aprile lungo 12 anni, 12 anni di dolore ma anche di speranza, 12 anni di memoria, ricordo, ricostruzione. Il 6 aprile degli Aquilani è un 6 aprile certamente diverso da due anni, senza condivisione, senza cerimonie collettive. La prima tappa del ricordo è stata la scuola della Guardia di Finanza Coppito, lì la piazza d'armi, è stata chiamata piazza 6 aprile. C'è una targa che ricorda le vittime, realizzata dopo i solenni funerali di Stato che furono celebrati all'interno della scuola. In quel punto è stata deposta una corona, la presenza del sindaco Biondi, del prefetto Torraco, del cardinale Giuseppe Petrocchi e del comandante della scuola, il generale Zaccagnini. La scuola si è fatta carico di un sacco di impegni, perché si è resa conto delle difficoltà che aveva la città, che aveva soprattutto la comunità dell'Aquila. Fortemente piegata dai lutti, dalle distruzioni, dalla malincolia, dalla paura e da sentimenti che necessariamente in quel periodo erano necessariamente sentimenti negativi. La scuola non può dimenticare, ecco perché oggi è ritenuto opportuno apporre alla presenza delle massime autorità cittadine una corona al soffragio dei caduti. Non dimenticare per andare avanti, questo è stato il nostro motto. La scuola non dimentica nessuno, ha ritenuto opportuno non lasciare indietro nessuno. La struttura fu un prezioso quartier generale nel corso dell'emergenza terremoto. Molti uffici pubblici furono trasferiti lì, compresa la prefettura, a causa dell'inergibilità delle sedi in centro. Lì le riunioni infinite, le decisioni più importanti, lo spirito di solidarietà della Guardia di Finanza che aprì le sue porte anche agli spollati. Le commemorazioni del 6 aprile sono sempre molto toccanti, anche se in una forma un po' simbolica per via del Covid. Però questo non nemmeno sentite e non toglieranno nulla dal cuore della comunità di quella che è stata il ricordo di quella terribile notte del 6 aprile. Ma soprattutto c'è questa voglia da parte della cittadinanza che ho potuto riscontrare io stessa quando sono arrivata qui, di reagire e quindi con la capacità di resilienza.